Stasera abbiamo voluto fare qualcosa di diverso dal solito, anche per omaggiare un po' i ragazzi del canale Epic Meal Time. Abbiamo fatto un mega polpettone e abbiamo voluto dargli un nome in inglese visto che è il canale di Epic Meal Time in inglese e l'abbiamo chiamato Big Macaroni Meatball e come dice il nome abbiamo fatto un polpettone con i maccheroni dentro, tipo maccheroni fatti a pasta al forno dentro la teglia. Per fare questa enorme teglia di cibo abbiamo usato più di due chili di carne, un chilo di pasta, formaggio e mozzarella a volontà. Il ripieno del polpettone è la pasta al forno. Non so se è pieno. Avete capito? Il ripieno del polpettone è la pasta al forno. È una cosa eccezionale. Per fare questa pietanza abbiamo dovuto dividere i lavori in più fasi, perché altrimenti non saremmo riusciti a farlo. Abbiamo fatto da una parte, abbiamo cotto la pasta e l'abbiamo fatta col sugo, pomodoro e pancetta. E dall'altra ho preparato la roba da mettere in mezzo i maccheroni. Ho tagliato il salame, il galvanino e il prosciutto. Poi abbiamo foderato la teglia con il macinato mescolato alla salsiccia. Con questa fodera di carne l'abbiamo riempita con la pasta condita, l'abbiamo richiusa con la carne mettendogli sopra anche della mozzarella. E poi l'abbiamo messa in forno. Non è stato difficile farlo, però ci è voluto un po' di tempo, ci abbiamo messo due o tre ore, anche quattro. È stato un bel mattone da buttare giù perché era molto pesante, però è venuto bene. Grazie. Grazie.